Da una parte c'è un tema tecnologico molto forte che sta eliminando il grasso, quindi quei margini che arrivavano facilmente, perché è per un tema di trasparenza. Dall'altra fare il mestiere sta diventando maledettamente difficile, perché farsi pagare per gestire dei risparmi che con molta probabilità daranno un ritorno poco lontano dallo zero è altrettanto sfidante. Il tema si sta spostando molto sul tema del rischio. Perché se non siamo differenzianti sotto questo profilo è chiaro che un brand come Lamborghini non può avere il successo che sta avendo adesso. Quindi il fatto di dover lavorare, e parliamo di innovazione e parliamo di tecnologie, in questa direzione ci obbliga, e quindi lo dobbiamo vedere come opportunità, ad anticipare i tempi. Sapendo che però oggi i tempi non sono ancora maturi nel nostro segmento per fare uno switch off da una tecnologia all'altra perché non è così e i clienti li perderemo. È chiaro che in un contesto del genere le aziende devono diventare decisamente più agili, cioè capaci di essere responsive nei confronti del mercato, cioè intercettare l'esigenza dei consumatori, capaci di essere più flessibili, capaci di aumentare la visibilità che hanno sull'ecosistema, essere capaci di gestire il rischio. Tutte queste cose sono favorite dall'innovazione tecnologica, quindi la cosa interessante è capire come le aziende si stanno attrezzando per essere protagoniste di questa innovazione e non subirla.